Sì, no, siccome abbiamo sentito che abbiamo perso una persona importante, che qui è stato un giocatore importante, sicuramente io personalmente non l'ho conosciuto, però tutta la squadra siamo quella famiglia e stiamo pensando a lui molto. No, sicuramente è importante, vuol dire che stiamo lavorando bene, perché nessuno ci regala niente, si vede che qualcosa è cambiato, però è troppo presto, siamo consapevoli che siamo forti, ora dobbiamo continuare così, perché prima o poi arriverà un momento un po' meno buono e quindi ora dobbiamo sfruttare questa strada qua, questo momento qui. Sicuramente è stata una partita impontatissima contro il Trapani, però ormai dobbiamo cancellare questa partita e pensare alla prossima, se incontriamo il Livorno, Brescia, Carpi non importa. L'atteggiamento deve essere sempre uguale sul piano dell'impegno, poi è ancora presto, vuol dire se facciamo la partita noi o la facciamo fare, ora dobbiamo studiare bene l'avversario, però sappiamo che c'erano giocatori importantissimi, c'erano 3-4 giocatori che possano fare la differenza e sicuramente davanti sono molto forti. Una cosa importante è sicuramente non farli ripartire, perché loro aspettano questo, però questo sarà il compito del mister e noi facciamo quello che ci dirà il mister. No, no, bellissimo, perché poi per me è il primo anno che sento così tanto, perché Bologna è la prima piazza importante che ha fatto calcio vero e quindi sicuramente quando le cose vanno bene ti senti molto più un giocatore, questo è bello anche lunedì quando siamo andati sotto ma poi abbiamo cambiato la partita e il tifo c'era per 90 minuti e infatti lo senti, a Bologna in casa lo senti molto e credo che anche a Modena, che erano in tantissimi, sicuramente ci farebbe piacere se anche a Livorno venissero in tanti.